Sì, vogliamo dire due parole prima di scoprirla, c'è qualcosa da dire secondo te? No, direi, facciamosi per là, direi siamo quasi pronti, tra poco qua scopriamo tutto, a volte, ok? Torniamo solo una volta, grazie, a volte, 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 che accompagnerà nel mondiale degli atletici super bai Vittorio Iannunzio. Applausi per il pubblico! Grazie per la visione!